22 reti in 21 partite di campionato, 13 gol al passivo, nessuno ha fatto meglio nel girone H, quinto posto e la capacità di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. La vittoria sul campo del Granata a Fanalino di Coda ha lasciato in eredità in casa Fidelisandria ulteriori certezze e altri tre passi verso la salvezza. Obiettivo proclamato e rimasto in cima alle priorità del club bianco-azzurro. Anche in una domenica nella quale l'attacco ha dovuto fare a meno di Stranges prima, Bozic poi e infine di Varriale, la Fidelis è riuscita a far proprio i tre punti. Di fronte è vero non c'era un avversario irresistibile ma la storia del campionato dimostra che ogni partita può diventare un ostacolo insormontabile. Il Leone ha fatto iniezione di fiducia nei propri mezzi e di cinismo, parola dell'attaccante Beppe Siclari. Io comunque non venivo da mesi dove ho giocato pochissimo, sono state tante situazioni, un po' di sfortuna però mai è passato, adesso siamo partiti bene, l'anno nuovo è partito bene, siamo quasi tutti a disposizione, speriamo che Gregoric e lo stesso Bozic siano infortuni meno gravi del previsto. Come spiegato da mister Alessandro Potenza nel post partita di Mugnano, anche Siclari è consapevole del fatto che una vittoria contro il Sorrento domenica prossima al Degli Ulivi permetterebbe a Cipolletta e compagni di ipotecare la salvezza con ben 12 turni di anticipo sulla conclusione della regular season. Tre punti domenica contro i campani suonerebbero come un'ipoteca, solo dopo assicura l'attaccante arrivato a dicembre dall'audace Cerignola e sin qui assegni una volta contro il Francavilla si potrà alzare l'asticella e pensare ai playoff come un obiettivo concreto. Giochiamo con una squadra che ha bisogno di punti, viene da un periodo negativo, noi giochiamo in casa, vogliamo portare a casa i tre punti, tre punti che per noi significherebbero comunque avvicinarci ancora di più a quello che era il primo obiettivo della società, della squadra.